Benvenuti a tutti, oggi abbiamo il contributo di Stefano Gattei, lascio la parola a Claudio per fare una breve introduzione e ricordo che è registrato questo video, quindi chi non avesse piacere di essere registrato può togliere il video e anche il microfono, siete liberi di fare le domande, chi vorrebbe partecipare, per le persone che non hanno piacere a essere registrate ci sarà comunque un momento successivo alla registrazione in cui ci potrà essere il momento delle domande da fare al relatore. Quindi porto la parola a Claudio per l'invento. Grazie, grazie Alessandro e sono veramente contento di presentare Stefano perché appunto oltre che uno stimato collega è anche un carissimo amico quindi il piacere è il piacere doppio e molti di voi lo conoscono però quindi però qualcosa che qualcosa mi fa piacere dire su di lui e gli faccio questo piccolo scherzo nel senso che vi mostro una sua foto con un amico molto più illustre di me però altrettanto caro che purtroppo non c'è più ed è Popper come forse riconoscete e che in qualche modo è forse, spero che non mi contraddirà Stefano insomma può essere in qualche modo considerato il suo maestro idealmente nel senso che poi come dire Stefano per ragioni anagrafiche lo ha conosciuto molto anziano quando già Popper era in pensione diciamo però si sono frequentati appunto questa foto testimonia la loro amicizia i loro incontri e credo che sia stato Popper in qualche modo a strappare Stefano dalle lusinghe dell'ingegneria per portarlo ad approfondire le cose di cui parliamo oggi cioè argomenti di prima di filosofia e poi anche di storia della scienza Stefano si è laureato a Milano ha fatto un dottorato a Bristol e poi in entrambi i casi in filosofia della scienza e poi come dire la sua carriera accademica l'ha portato ad approfondire anche tematiche di carattere storico a cui negli ultimi anni forse si è dedicato per la maggior parte del suo tempo mi piace citare in particolare la sua ultima fatica libraria naturalmente Stefano ha scritto un sacco di contributi scientifici articoli contributi adatti di convegno eccetera non mi soffermo su questi ricordo però appunto il suo ultimo la sua ultima pubblicazione per qui non si vede è Princeton vero University Press pubblicato l'anno scorso una come dire edizione traduzione inglese delle della vita di Galileo del Viviani e altre biografie antiche di di Galileo in effetti Galileo è uno degli interessi scientifici principali di Stefano che però è come dire ha coltivato anche altri autori tra cui quello di cui ci parlerà oggi è un altro no dei suoi grandi dei dei suoi dei suoi autori di riferimento cioè che plero appunto e ecco ricordo anche che abbiamo la fortuna di avere Stefano a Trento finalmente da 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 qualche mese professore alla all'Università di Trento come dire è inquadrato nella nella nel dipartimento di sociologia però poi appunto insegna anche alla facoltà di lettere e collabora anche con il dipartimento di matematica quindi è veramente bello come dire averlo qui presentarvelo chi è di Trento avrà occasione anche chi è di appunto avrà altre occasioni per eh conoscerlo e per per parlare con lui e non gli rubo altro tempo e gli do direttamente la parola grazie Emilia va bene grazie grazie Claudio per la presentazione per lo scherzetto perché eh eh tra l'altro è una foto che non vedevo da non rivedevo da tanti anni eh appunto tanti anni fa e tanti chi li fa ma comunque chiudiamo questo parentesi ehm bene ehm oggi l'idea è un po' di eh che inizio magari a condividere la mia presentazione vediamo se speriamo vado tutto bene dovreste vederla sì perfetto ok l'idea è eh di fare un piccolo viaggio nella mente di questo grande protagonista della rivoluzione scientifica appunto Johannes Kepler attraverso un un piccolo libro uscito nel milleseicento undici eh che certamente non è da considerarsi tra le opere come dire maggiore di Keplero che però eh in ventiquattro pagine riassume un po' proprio tutta la mentalità io credo eh di questo grande scienziato e quindi vale la pena appunto vedere un po' eh il mondo attraverso i suoi occhi eh e attraverso questo che è considerato appunto uno scherzo una nuga ma in realtà eh è un un lavoro che eh nasconde un eh un intento eh assolutamente serio vediamo ecco ecco qua ecco allora questo è l'opera di cui eh parlerò appunto la strena seu denives ex angola cioè strena eh regalo per le festività del nuovo anno ovvero la neve esagonale pubblicato appunto da Gottfried Tampak a Francoforte nel 1611 ehm do qualche breve punto di riferimento per inquadrare quest'opera siamo alla conclusione nel 1611 siamo quasi alla conclusione del periodo eh pragesi diciamo di Keplero. Keplero arriva a Praga nel 1600 eh dopo aver preso contatti con Tico Brahe che lavora presso eh presso la corte eh dell'imperatore Rodolfo II e però già nel 1601 eh viene a Praga per lavorare con Tico Brahe appunto ma già nel 1601 Tico muore e Keplero viene nominato eh matematico imperiale col compito appunto di portare a termine l'opera che lo stesso Tico aveva iniziato cioè eh le tabole rudolfine che vedranno la luce poi soltanto nel 1627. Nel 1604 eh osserva la nova eh la supernova che poi prenderà il suo nome nel 1605 scrive un pronostico per stabilire la vera nascita di Gesù Cristo eh attribuendola al 5 avanti Cristo eh anno in cui si ebbe la grande eh la massima congiunzione di Giove e Saturno in cuspite del segno cardinale dell'Ariete che secondo l'astrologia doveva aprire appunto il nuovo eh un nuovo millennio appunto a quella data 5 avanti Cristo eh secondo il nostro calendario eh Keplero attribuisce il vero anno eh come il titolo della sua opera De Vero Anno il vero anno della nascita di Gesù Cristo. Nel 1609 eh poi eh pubblica quella che la sua ha il suo contributo scientifico maggiore è l'astronomia nova eh Aetiologetos cioè basata sulle cause Seu Fisica Celestis eh ovvero Fisica Celeste eh che segna la nascita della Fisica Celeste appunto e eh in cui Keplero presenta per la prima volta quelle che noi adesso conosciamo come le prime due leggi sul moto dei pianeti appunto le litici la prima riguarda la forma dell'orbita l'eletticità eh dell'orbita appunto e pianeti si muovono intorno al Sole non più come se si era sempre pensato attraverso eh lungo orbite circolari ma attraverso appunto orbite ellittiche di cui il Sole occupa appunto uno dei due fuochi e seconda legge quella che ha come conseguenza quella che dice appunto che il raggio che eh congiunge il centro del Sole al centro del pianeta spazza aree uguali in tempi uguali e che ha come conseguenza che il moto del pianeta lungo l'orbita appunto ellittica non è più costante non è più uniforme come si dice leggi che lui ha scoperto qualche anno primo ma che pubblica soltanto nel 1609 e nel 1609 dopo aver portato a termine questo immane sforzo di stesura e pubblicazione dell'astronomia nuova scrive appunto il Denives Ex Angula che però vedrà la luce soltanto nel 1611. 1611 anno tragico perché muore la sua prima moglie Barbara eh che gli aveva dato cinque figli di cui due però eh morti in giovane età eh si risposerà più avanti ehm eh e poi 1612 eh morte dell'imperatore Rodolfo II e che viene succeduta al trono dal fratello Mattia e che nominerà eh Keplero matematico territoriale eh Landschafts Mathematiker eh a Linz e quindi Keplero lascerà eh Praga per sempre alla volta eh di Linz per completare poi le tabole rudolfine eh questo nomine a matematico territoriale non comporta l'annullamento del del titolo precedente matematico imperiale proprio per per dargli la possibilità di portare a termine le tabole rudolfine. Questo è un po' il contesto quindi siamo al termine di quelle che sapete che Galileo ha chiamato gli anni padovani gli anni migliori della sua vita probabilmente Keplero avrebbe detto lo stesso eh per questi anni passati a Praga. Eh l'opera è ehm l'opera particolare perché come altre opere di Keplero altre opere di questo periodo in realtà e questo è il motivo per cui è importante eh appunto fare un'edizione critica del testo cosa che sto portando a termine proprio in queste settimane ehm perché appunto eh la la il meccanismo della stampa dell'epoca portava ad avere vari stati cioè varie versioni potremmo dire di una medesima edizione. E effettivamente la eh l'edizione che ho che ho fatto vedere prima del 1600 di cui ho fatto vedere prima il frontespizio 1611 il verso di quel frontespizio è completamente bianco. Eh solitamente queste opere avevano all'inizio degli epigrammi delle poesie in celebrazione del contenuto dell'opera o dell'autore o anche del della persona a cui l'opera è dedicata. Ecco nel caso del denive di Keplero eh questi questi epigrammi si trovano non già nel denive ma in un'altra opera di Keplero ehm eh pubblicata più o meno nello stesso periodo ma anche qui siccome esistono vari stati di quest'opera non in tutte le copie di eh questa seconda opera appunto è possibile ritrovare questi epigrammi. Si trova io sono riuscito a trovarlo in soltanto in nove esemplari eh e questo è quello che appunto avrebbe dovuto essere il eh il verso del frontespizio del 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 denive di Keplero che tra l'altro questi testi non sono neanche presenti eh sono stati scoperti recentemente e non sono neanche presenti nei Gesam al Teverche eh eh cioè l'opera omnia di Keplero stesso. E leggiamo questi tre eh epigrammi eh il primo di Thomas Seget eh che tra l'altro è un personaggio importante eh un tre di unione importante fra Galileo e Keplero per esempio eh vabbè insomma ci sarebbe tanto da dire su Thomas Seget ma eventualmente se qualcuno è curioso potrò dire qualcosa eh alla fine. Seget scrive eh dalla nera penna di Keplero è caduta sciolta dal calore la neve proprio più preziosa eh delle spoglie di frisso più durevole del duro marmo del solido bronzo questa neve non si scioglie né alle correnti del sud né alla canicola. Cioè l'opera di Keplero eh eh scritta con l'inchiostro nero appunto è molto più durevole del cristallo di neve o del fiocco di neve che svanisce invece in poco tempo. A questo risponde Keplero come vedete quei versi eh che sono totalmente inediti questi versi e io credo vadano eh stampati così come vedete la mia traduzione qui a formare appunto quasi vedete non sono perfettamente allineati a sinistra era un tentativo di formare un piccolo esagono eh di eh scrivere dei versi che per lunghezza appunto potessero dare vita all'esagono che è il protagonista dell'opera. Quindi Keplero scrive eh io Keplero ai quattro esametri sagaci di Seghet eh risponde con quattro scintille esagonali eh di nera neve. E infine eh Benjamin Ursinus uno degli assistenti di Kepler scrive questo distico la neve per Keplero è tutto poi molto e quindi poco anzi tranne un non so che è addirittura nulla e poi mette una vedete un asterisco fa una sorta di nota a piedi pagina proprio distico e dice nivem eh la parola nivem in latino eh invertendo le lettere diventa nevim che in lingua boemica boema significa non so eh quindi inizia già da subito da questa pagina mancante ma che adesso è stata ricostuita ricostituita è stata riportata al luogo che eh doveva originariamente accoglierla eh inizia questo gioco questo gioco che attraverserà tutto il testo un testo breve di ventiquattro pagine eh gioco fra neve nulla eh non so tutto e così via. È un gioco colto che era molto eh come ce n'erano altri molto in voga al tempo e che però appunto segnerà in maniera importante con importanti riferimenti il testo di Keplero. Testo di Keplero che è eh costituisce un dono eh un dono appunto di eh di eh dello scienziato al proprio patrono eh che è Johann Matthäus Wacker von Wackenfels ehm per in occasione appunto delle festività del nuovo anno. E Keplero inizia dopo una dedica al a Wacker inizia dicendo queste parole poiché so quanto tu ami il nulla non tanto per il suo basso costo quanto per il passatempo molto spiritoso insieme a un bellissimo che ti dà il tuo garulo passero credo che il regalo ti sarà più gradito e accetto quanto più si avvicinerà al nulla. E qui abbiamo due elementi già importanti delle prime righe eh di nuovo il gioco innanzitutto il gioco colto eh il tuo garulo passero è un riferimento eh tra l'altro mi c'è voluto parecchio scoprirlo ehm è un riferimento eh non eh in latino è lascivus passer che sembra essere un riferimento al al a Catullo ma in realtà è un riferimento a Jean Passerat un poeta eh Passeratius in eh in latino eh un poeta francese che è autore appunto di un Carmen Denilo cioè di una poesia proprio dedicata al nulla. E poi c'è questo riferimento a Wacker amante del nulla. Quindi eh come tu ami il nulla io ti darò qualcosa di che sarà tanto più gradito quanto più si avvicinerà al nulla. Cosa vuol dire amante del nulla? Eh come sappiamo da dalla dissertatio come annuncio eh sidereo in eh di Keplero appunto l'opera una delle due opere con cui eh Keplero dialoga a distanza con Keplero e anche da a una testimonianza di Kaspar Schopp eh Wacker von Wackenfels era un eh sostenitore eh di Giordano Bruno e delle sue idee e condivideva in particolare l'atomismo di Giordano Bruno e eh la sua teoria degli infiniti mondi. Entrambe teorie o tesi che Keplero invece respingeva. Probabilmente sulla scia eh di un appunto di Tico Brahe che abbiamo citato poco fa che appunto nel eh sulla propria copia del Cameracensis Acrotismus appunto di Giordano Bruno un testo del 1588 scrive questo eh verso sprezzante no nullanus nullus et nil convenium trebus nomina sepe suis eh gioca sul su sapete che Giordano Bruno era di Nola quindi era detto Nolano in latino Nolano Nolanus eh eh gioca sull'assonanza fra Nolanus e Nullanus Nullano no? Quindi nullano nullo eh cioè uomo che non vale nulla e nulla ecco a volte o spesso anzi le parole si addicono alle cose che eh descrivono eh quindi probabilmente un po' sulla scia anche di questo commento sprezzante di eh di eh di eh di Cobrahe nei confronti di Bruno eh che Plero si rivolge al proprio patrono invece che sostiene che che condivideva le idee di Bruno in particolare quelle eh atomistiche e eh lo prende scherzosamente in giro eh anche eh sagacemente in giro eh dicendo appunto tu sei un amante del nulla e io ti darò appunto nulla. In realtà Bruno ehm che Plero non condivide come ho detto le tesi di Bruno ma è stato profondamente influenzato dalla dalle immagini con cui Bruno eh arricchisce alcune delle sue opere in particolare ehm dei triplici minimo e mensura eh che fa parte della cosiddetta trilogia di Francoforte del 1591. Vediamo infatti tutta una serie di incisioni per in particolare questa qui questa area democriti eh appunto dal dei triplici minimo e mensura eh che poi se eh terrete a memoria queste immagini vedrete ritorneranno un po' nel nel denive di Keplero. E ancora queste altre due immagini immagini in uno da dell'infinito universo e mondi e poi ancora dal del triplici minimo. E poi anche questa eh questa è un'altra eh immagine del del triplici minimo in cui che serve a Bruno per dimostrare eh sto parlando di partimento di matematica insomma per dimostrare che in un eh in una circonferenza ci possono essere al massimo sei eh raggi o tre diametri e per farlo ricorre appunto questa a questa rappresentazione a questa figura in cui rappresenta appunto queste unità indivisibili eh che sono appunto gli atomi che lui chiama minima e il motivo dei sei raggi numero massimo di sei raggi è che intorno a un a un atomo centrale se ne possono disporre nel piano soltanto altri sei di uguale dimensione. E questa figura che vedete in basso comprende anche un invece una simmetria pentagonale tipica come si vede delle piante e dei fiori. Questa figura dicevo di Bruno assomiglia quasi effettivamente a un fiocco di neve. Quindi è indubbio che eh Cheplero ripeto pur non condividendo le tesi di Bruno e pur appunto essendo non solo non condividendole ma essendo molto critiche nel critico nei loro confronti eh ha fatto propria eh la la parte diciamo eh iconografica delle delle opere di Bruno. Ecco allora continuiamo continuiamo a leggere. Quindi dice tu che sei un amante è nulla cosa posso regalarti? Posso donarti magari uno degli atomi di Epicuro? Ma questi dice Cheplero sono davvero a proprio sono davvero poca cosa non sono proprio nulla. Ecco una critica scherzosa ma seria eh eh detta in maniera scherzosa ma in cui Cheplero credeva profondamente all'atomismo. veniamo allora dice procediamo per gradi. C'è tutta questa prima parte del denive che è un gioco molto colto eh e che noi percorreremo prima di entrare nella parte più seguiremo prima di entrare nella parte più eh più seria dell'opera. Quindi non posso darti gli atomi di Epicuro perché davvero non sono nulla. Beh allora vediamo qual è più consistente. Gli elementi. Eh? La terra. Se prendessi anche una sola delle particelle di polvere che ha immaginato Archimede che è un riferimento al sistema di numerazione eh di cui Archimede parla nell'arenario eh per contare eh di quanti eh per contare numeri estremamente grandi quali per esempio il numero di eh granelli di polvere che riempirebbero l'intero universo conosciuto. Ecco se anche prendessi una sola di queste particelle dice Cheplero manderei all'aria tutto il sistema elaborato da Archimede e poi ti darei comunque troppo perché anche una particella di polvere per quanto piccola è troppo è troppo per un amante del nulla. Passiamo al fuoco. Le scintille per quanto evanescenti eh non sono più piccole delle particelle di cenere che già mi eh che già non volevo darti parlando della terra eh quindi lascio a Platone le forme a piramide che non ho mai visto eh e eh abbandona anche l'idea di donarti una scintilla. Anche qui un riferimento critico alla costruzione del timè del dell'universo nel timèo di Platone a partire da triangoli. Veniamo all'aria. Venti e fumi dice Cheplero facendo riferimento alle alle parole o ai discorsi fumosi e quindi vacui e quindi inconsistenti. Venti e fumi dice si trovano in grande varietà eh sul mercato in commercio eh sono a volte una merce preziosa ma non si prestano alla riflessione perché sono grossolani e informi quindi difficili da studiare quindi lascio perdere anche l'aria. Infine l'ultimo eh dei quattro elementi l'acqua eh dice l'ultima goccia divina nel bicchiere guardata con disprezzo nelle scritture ci sono dei riferimenti a dei passi proprio delle scritture. Certo dice la sfericità della goccia eh promette eh buone considerazioni di carattere geometrico ma anche questa è troppo per te che ti compiace del nulla. Si passa poi agli animali eh c'è una citazione di Cardano un riferimento a Cardano al al desubtilitate di Cardano e a questo piccolo pidocchio o comunque quello che lui chiama coniglio sottocutaneo ma anche questo eh è eh è troppa cosa già o sono rifugito dall'offrirti una particella di polvere o una goccia figuriamoci un animale vero e proprio per quanto molto piccolo. E poi dice pensavo appunto a tutte queste cose immaginate che Plero che dal da Praga dalla città antica di Praga sta attraversando il Ponte Carlo per recarsi verso il castello nei pressi del quale risiedeva Wacker von Wackenfels e dice sono confuso per la mia maleducazione sono imbarazzato perché vengo a casa tua invitato a partecipare alle festività per il nuovo anno e non ho niente non porto niente non ti porto nulla non ho nulla in mano. Nulla che si presti al gioco arguto dell'intelligenza. Quando ecco dice che accade che dei vapore per il freddo si condensino in neve e alcuni piccoli fiocchi cadono qua e là sul mio mantello tutti esagonali con i loro raggi villosi. Perbacco ecco qualcosa di più piccolo di una qualunque goccia e pur tuttavia dotato di una forma. Ecco un dono più che mai appropriato per un amante del nulla e che si presta essere regalato da un matematico. Viene poi dal cielo e io sono un astronomo. Ma non solo non solo questi flocculi omnes sexanguli come dice vengono dal cielo e hanno simmetria esagonale. C'è di più. Vi ho messo questa immagine proprio di queste frasi che adesso vado a leggervi in questa prima conclusione di questa prima parte. Vado a leggere in traduzione. Ecco dirigiamoci allora dal mio patrono finché questa piccola strena ancora si conserva prima che il calore del mio corpo la faccia sciogliere il nulla. E che nome fatale? Quale gradito dono? Scusate che ho scritto un duenne per errore. Quale gradito dono per Vacher amante del nulla? Se chiedi infatti a un tedesco nam si a Germano Queras nix quid sit. Se chiedi infatti a un tedesco che cosa significa neve? Lui si latine possit. Se conosce il latino ti risponderà nulla. Perché? Perché neve in latino nix. è il tedesco nulla. Vedete c'è di nuovo un gioco come Ursinus in quell'epigramma. Nivem, Nevim e così via. E questo trovo cose molto belle. E' uno dei motivi tra l'altro che quando lessi per la prima volta questo testo che mi spinsero a appunto a dedicarmi a un'edizione di questo testo. Perché veramente lo trovo molto molto brillante da un lato e piacevole dall'altro. Quindi accetta in piena serenità questo dono da nulla e se sei saggio, dice Cheplero, trattieni il respiro per non ricevere ancora una volta nulla. Perché ovviamente col calore del fiato si sceglierebbe questa piccola stella di nero. Questa è la diciamo premessa. Sono le prime due tre pagine di gioco colto che Cheplero fa introducendo appunto il discorso più serio del denive. Mi permetto adesso di fare anch'io una piccola una piccola un piccolo detour rispetto al 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 tema e presentarvi una breve storia compatta dell'osservazione dei fiocchi di neve che io trovo veramente molto affascinante. Andrò soltanto per capitoli principali ci sarebbe tantissimo da dire. Ma ovviamente non è questa la sede. Però credo sia qualcosa di abbastanza inconsueto e quindi forse vale la pena dedicarci qualche minuto. E poi come vedrete le immagini sono bellissime. Le prime osservazioni dei fiocchi di neve o meglio dei cristalli di neve della loro simmetria esagonale risalgono all'estremo oriente alla Cina. Han Singh per esempio nel 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 appunto 135 avanti Cristo circa scrive in questo che è un poema o meglio una prosa poetica. Lui era un poeta che scriveva cos'è tifu cioè delle odi che sono appunto prose poetiche tipiche di quel periodo della dinastina Han in Cina. Ecco i fiori delle piante degli alberi hanno solitamente cinque punte ma quelle di neve che sono detti Ying hanno sempre sei punte. Quindi qui è interessante sarebbe bello sapere ma non lo sappiamo se questa è una considerazione come dire prettamente teorica però questo sempre sei punte indica che magari c'è stata effettivamente un'osservazione e che tipo di osservazione è stata fatta? Come è stata fatta? è stato utilizzato magari qualche strumento delle lenti magari per osservare le sei punte dei cristalli di neve. Questo è un non lo sappiamo ma veramente un punto interessante. E poi qui c'è un riferimento alla dottrina cinese dei cinque elementi mentre per la tradizione occidentale gli elementi sono quattro acqua, aria, terra e fuoco per i cinesi sono cinque. Acqua, terra, fuoco, metallo e legno e tra l'altro il numero sei è associato all'acqua e quindi qui c'è un riferimento a questo fatto. Sempre in Cina troviamo parecchio più tardi questo verso di Xiao Tung, tra l'altro poeta morto giovanissimo, anche erede al trono della dinastia Liang, morto a soli trent'anni. Le nubi rossastre galleggiano a quattro angoli, ai quattro angoli scusate, del cielo azzurro e i bianchi fiocchi di neve mostrano i loro fiori a sei pet. E ancora, queste sono tutte cose che ha trovato Joseph Needham, il grande studioso della scienza e civilizzazione in Cina, Chu Si, il sei generato dalla terra è il numero perfetto dell'acqua e poiché la neve è acqua condensata in fiori di cristallo, questi sono sempre a sei punte. Più avanti Chu Si scrive anche tutto è dovuto ai numeri intrinseci alla natura. È una visione per certi versi affine a quella di Keplero. Keplero però si occupa di capire perché i fiocchi di neve hanno sei punte, mentre questi autori e i naturalisti che li citano e che li seguono, naturalisti cinesi che li seguono, sembrano come dire dare per come un fatto che i cristalli di neve abbiano questa simmetria esagonale e però non cercano di dare una spiegazione, fanno riferimento a considerazioni di carattere numerologico ma nulla di più. Nell'antichità classica greco-romana non abbiamo testimonianze di osservazioni di fiocchi di neve o di cristalli di neve, probabilmente come è ovvio pensare per motivi climatici o meteorologici. È anche incerto se gli arabi abbiano mai fatto questo tipo di osservazione. Nell'Occidente latino il primo a parlare di una figura stellata, senza fare riferimento a sei punte, ma comunque una figura a forma di stella dei cristalli di neve, questo primo riferimento si trova in Alberto Magno, nei Meteorologica di Alberto Magno, il doctor Universalis, vissuto appunto nel XIII secolo, ma la prima rappresentazione che troviamo, il primo disegno di un fiocco di neve esagonale, si trova appunto nell'istoria dei Gentibus Settentrionalibus di Olaus Magnus, questo arcivescolo di Uppsala del XVI secolo, l'opera è pubblicata a Roma nel 1555 e vedete che Olaus Magnus dedica il capitolo ventunesimo del primo libro proprio alle varie figure, forme della neve. Vedete questa illustrazione molto fantasiosa, quindi Olaus Magnus si rende conto che le meteore, cioè appunto questi oggetti che cadono dal cielo, hanno effettivamente una grande, sono molto vari fra loro, presentano una grande varietà. Vedete addirittura c'è la forma di una mano in alto a destra, oppure la punta di una freccia, una mezzaluna, una campanella in alto a sinistra e poi vedete qui, non so, spero vediate il mio, il puntatore del mio mouse, vedete anche una forma esagonale a sei punte, quindi però appunto l'Olaus Magnus non si, cioè registra la grande varietà di oggetti, in particolare della neve, però non registra, non si accorge della regolarità che invece caratterizza i cristalli di neve. Al mille, al questa, questa opera, a questo capitolo ventuno del, del, dell'istoria dei gentibus septentrionalibus di Olaus Magnus segue appunto nel 1611 il denive, in cui però non troviamo, potrebbe stupire questo fatto, non troviamo nel denive un disegno di un cristallo di neve. Perché? Perché l'intento di Keplero era diverso, non era rappresentare la neve, l'intento di Keplero era diverso e lo vedremo più avanti. Dopo, poco dopo Keplero, troviamo Cartesio, nelle meteore che seguono il discurso della method, che è seguito appunto dalla geometria, dalla diottrica e dalle meteore, come dice Cartesio, che sono appunto saggi di questa, dell'applicazione di questo metodo, troviamo appunto nelle meteore, in uno di questi saggi, questa rappresentazione dei fiocchi di neve osservati da, o cristalli meglio si dovrebbe dire, cristalli di neve osservati da Cartesio durante una nevicata il 5 febbraio del 1635. Vedete che non sempre è osservata la simmetria esagonale del cristallo, ma questa immagine è importante perché, vedete dove è la lettera F in alto a destra, per la prima volta vengono presentati questi fiocchi di neve, come dire, tridimensionali, immaginiamoli più o meno bidimensionali schiacciati su una superficie. Descartes fa vedere invece queste colonne prismatiche, quindi sono prismi esagonali con due basi appunto esagonali, due facce esagonali alle due basi. Questa è la prima volta che vengono rappresentate. 1635 la nevicata, 1637 la pubblicazione. Nel 1661 due fratelli, Thomas e Erasmus Bartolin, entrambi medici e fisici, pubblicano un'opera, o meglio, Thomas Bartolin pubblica il Denivis figura uso medico osservazione svaria, cioè sull'uso medico nella medicina della figura e dedica proprio un capitolo alle varie figure e varie forme dei cristalli di neve, ma annessa a quest'opera di Thomas Bartolin in appendice c'è proprio un testo del fratello Erasmus Bartolin dedicato alla proprio alla forma dei cristalli di neve. Anche questo è un testo che segna un passo avanti perché, come vedete in basso a destra, per la prima volta viene discussa l'organizzazione geometrica dei cristalli. Altro punto importante è la micrografia, o micrografia meglio si dovrebbe dire, di Robert Hooke del 1665, quindi di pochi anni successiva, dove vedete per la prima volta i fiocchi di neve, i cristalli di neve, sono osservati al microscopio, quindi rappresentati con grande precisione. E tra l'altro, dopo Keplero, Hooke è il primo anche a mettere in relazione i cristalli di neve e l'impaccamento delle sfere nella formazione dei cristalli, eccetera. Su questo torneremo. Vado ancora per grandi linee. Friedrich Martens nel 1675, lui era un medico e naturalista tedesco che condusse le prime osservazioni scientifiche sulla natura, gli animali e il clima delle isole Svalbard, Spitzbergen appunto, e appunto a bordo di una baleniera, lui era medico e barbiere di bordo e quindi forse aveva un po' di tempo libero e fu il primo a dare una prima classificazione, come vedete, dei cristalli di neve. Ancora nel 1600, scusate che ho sbagliato a digitare, 1681, Donato Rossetti, un canonico di Livorno, poi trasferitosi a Torino, è il primo invece a dare proprio una classificazione sistematico, a tentare una classificazione sistematica dei cristalli di neve, in questo la figura della neve, uscita appunto nel 1681. Cito anche Giovanni Domenico Cassini, questo grande astronomo ligure poi trasferitosi a Parigi e è diventato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi nel 1671, che nel 1676 pubblica un articolo nei Compte Rendue dell'Accademia delle Scienze di Francia, in cui illustra questi due cristalli di neve e ho messo questa, vi voglio far vedere questa rappresentazione perché vedete in quello a sinistra c'è al centro una sorta di gambo, un settimo raggio, come dire, perpendicolare al più o meno al piano degli altri sei e ha una cosa analoga, io credo che Plero a un certo punto farà riferimento nel denive, quindi tenete a mente questa immagine, probabilmente che Plero aveva osservato qualcosa di simile anche lui. Andiamo ancora avanti, Scoresby, siamo nell'inizio dell'Ottocento, se alla fine del Settecento c'è la prima, Johan Wilke aveva tentato la prima produzione artificiale dei cristalli di neve, William Scoresby in quest'opera, in un capitolo, un'opera in due volume, un capitolo del primo volume, poi in una serie di tavole nel secondo volume, getta le basi per quella che è la conoscenza e lo studio moderno, l'indagine moderna sulla struttura dei cristalli di neve. Quindi queste sono veramente tavole molto importanti per gli studi successivi. Questo è un testo olandese di fine Settecento di Johannes Martinet che influenzerà, poi stimolerà un altro cinese, Doi Toshizuru, a pubblicare, lui era un nobile, pubblica privatamente questo libro estremamente raro, estremamente prezioso, trattato e illustrato dei boccioli di neve, come lo chiama, o Zekka Tsuzetsu, nel 1832, seguito poi nel 1839 da un supplemento, Zoku Zekka Tsuzetsu, dove ha delle rappresentazioni molto belle, le prime in oriente così, di questo tipo, dei fiocchi di neve appunto. L'ultimo autore, prima dell'introduzione della microfotografia, che appunto presenta questo studio sistematico sulla struttura dei fiocchi di neve, è James Glacier nel 1855. Ecco, vedete le tavole, ce ne sono anche molte di più, con tentativi di classificazione sempre più approfondita. Concludo con alcuni pionieri della microfotografia. Wilson Bentley, detto per ovvi motivi che vedremo fra un secondo, Wilson Snowflake Bentley, questo autodidatta del Vermont che scattò da solo oltre 6.000, ci rimangono perlomeno 6.000 immagini di cristalli di neve, alcuni ancora sono pubblicati, di una bellezza veramente notevole, ve ne metto qui alcuni d'esempio, e che vale veramente la pena ricordare. E poi Ukichiro Nakaya, questo fisico giapponese che si isolò in una caverna alla base di una montagna per produrre artificialmente i fiocchi di neve, ci rimase alcuni anni, produsse alla fine un'opera che una volta consegnata all'editore, però il manoscritto venne distrutto per i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi vedrà la luce soltanto nel 1954 in inglese e si intitolerà appunto quest'opera Snow Crystals Natural and Artificial, pubblicata appunto a Cambridge in Massachusetts nel 1954. Qui vi faccio vedere soltanto un paio di immagini, vedete tra l'altro è interessante qui a sinistra, vedete questo filo, era il modo in cui Nakaya faceva crescere cristalli di neve, faceva aderire una piccola goccia su un filo e poi cambiando le condizioni di temperatura e pressione studiava che tipo di cristallo di ghiaccio, come lo chiama, o di neve si produceva. Qui ancora altre due immagini dal testo di Nakaya e infine Nakaya è importante anche per aver prodotto questo diagramma, detto appunto diagramma di Nakaya che mette in correlazione la temperatura con la supersaturazione del vapore acqueo nell'aria e le varie combinazioni di questi due elementi danno luogo alle varie forme dei cristalli di neve, nell'infinita varietà comunque dei cristalli. Ma quando si verificano le colonne, i prismi esagonali pieni, quando quelli vuoti, quando i dendriti, quando la forma più classica ha proprio sei punte e così via. Ultime immagini che vi faccio vedere per motivi queste sì esclusivamente estetiche, sono quelle, sono le immagini bellissime di Ken Librecht, un professore di fisica al Caltech, che ancora insegna al Caltech e che ha pubblicato appunto, si è appassionato, come è difficile non fare devo dire, allo studio dei cristalli di neve, ha pubblicato con tecniche ovviamente molto molto moderne, immagini bellissime. Ve ne ho messe qui alcune. Ecco vedete qui per esempio i classici dendriti a sinistro oppure queste colonne che per la prima volta aveva osservato Cartesio e abbiamo visto nel 1635, questi prismi esagonali e poi questo che è forse uno dei più belli dagli fotografati. Va bene, adesso scusate se mi sono un po' dilungato su queste cose, torniamo a Keplero. Come dice Keplero stesso appunto, ad rem veniamus, io ho comisso, cioè messo da parte le facezzi appunto, dopo aver scherzato per un po', dopo tutta quella introduzione con giochi colti sulla parola nulla, qualcosa, riferimenti all'atomismo e così via, veniamo al punto. Perché queste stellule nivales, queste piccole stellule, stelle di neve scusate, hanno sempre sei punti. Perché? Perché sei. Keplero era, questo era il problema di Keplero ed era un problema che non riguardava soltanto i fiocchi di neve o i cristalli di neve, era un problema che riguardava anche l'astronomia e lui era principalmente un astronomo. I pianeti allora conosciuti erano sei. Perché sei si era chiesto Keplero. Non aveva dato, come dire, non aveva cercato soltanto di descrivere le orbite, ma ha voluto capire perché sono sei e soltanto sei. Poi noi sappiamo che sono molti di più, però molti, insomma, sono alcuni di più e poi se consideriamo al di fuori del nostro sistema solare ovviamente sono infinitamente di più. Ma ai tempi questi erano quelli noti e lui voleva capire perché. Come nell'astronomia nova a lui interessava questa parola, a etiologitos, basato sulle cause. Io voglio sapere il motivo per cui le cose stanno in un certo modo. E nel mistero di un cosmografico del 1596 Keplero aveva detto i pianeti sono sei e soltanto sei perché cinque e solo cinque possono essere i poliedri regolari, cos'è, i poliedri platonici. Quindi le orbite dei pianeti poggiano su sfere circoscritte e inscritte nei cinque poliedri regolari e quindi possono essere soltanto sei. E la loro distanza è proprio data dalla distanza geometrica che si può calcolare fra le sfere circoscritte e inscritte ai solidi regolari platonici posti in un certo ordine. Quindi dall'infinitamente grande, diciamo, alle infinitamente piccole, anche nel caso dei cristalli di neve, perché ci sono sempre sei punti? Non può essere frutto del caso, dice Keplero. La causa non può però essere materiale perché il vapore non ha una forma propria e fluisce continuamente. Dobbiamo cercare dunque, prosegue, la causa non nella materia ma nella gente, quindi non cercare la causa materiale ma la causa efficiente. Ma qual è la gente? Io vorrei appunto adesso percorrere parlando, cioè questo che vi presento, una sorta di sinossi, di riassunto schematico di queste del denive, ma parlando come se stesse parlando Keplero. Quindi farvi vedere qual è il ragionamento che lui segue e sottolineando alcuni aspetti di questo ragionamento, perché è interessante osservare, lo dico sin dall'inizio, che 24 pagine dopo essersi posto la domanda perché le stelle di neve o i cristalli di neve hanno sempre invariabilmente sei punti, Keplero non riesce ad arrivare a una risposta. Eppure pubblica il denive. Keplero non ha una risposta positiva alla domanda che si pone la prima riga, perché sei? Mentre per i pianeti era riuscito ad arrivare a una conclusione, accettabile per lui, per noi ormai del tutto discutibile, ma insomma per lui era accettabile, nel caso dei cristalli di neve non riesce ad arrivare a una conclusione, eppure decide di pubblicare l'opera in ogni caso, perché lo vedremo appunto alla fine. Quindi seguiamo qual è il ragionamento di Keplero. Keplero non esita a farci vedere le strade che lui ha percorso, gli errori che lui ha fatto. Quindi non può essere la causa materiale, dobbiamo concentrarci sulla gente, ma qual è la gente e come agisce? Per disposizione innata o per una causa efficiente che agisce dall'esterno? Ha impresso la forma esagonale per necessità materiale, cioè perché il vapore, l'acqua ha questa caratteristica per se stessa o per sua stessa natura, per esprimere la bellezza della forma esagonale, cioè, o per raggiungere lo scopo a cui tale forma mira. Prende in considerazione alcuni esempi. Prendiamo i favi delle api. I favi delle api hanno anch'essi struttura esagonale. Ogni cella è circondata da sei, altre sei celle intorno, e tocca all'estremità posteriore altre tre celle. Vedete in fondo a queste celle, vedete tre spigoli che si toccano, in un impaccamento, diremmo con terminologia decisamente più moderna, di solidi romboidali, come lo chiama, come lo chiama, Keplero. Effettivamente la cella di un'ape ha sei pareti, ai lati, diciamo, ai bordi, e a un'estremità si chiude con tre superfici e costituisce la metà di quello che è un rombo dodecaedro, come viene detto. Se voi mettete una cella, due celle, scusate, di api, una di fronte all'altra, che toccano per la base esagonale, avrete una struttura rombica, un solido romboidale, con 12 facce. Quindi il primo esempio che viene in mente a Keplero è proprio quello dei favi delle api. Allora si chiede poi, è possibile che un corpo solido quasi regolare, cioè simile ai cinque poliedri platonici, regolari, o ai quattordici poliedri archimedei, sia costituito da questi romboidi. Cioè questi rombo dodecaedri sono in qualche modo utilizzabili per costruire altri solidi. Succede, dice, solo in due casi, con un solido affine al cubo e all'ottaedro e con uno affine al dodecaedro e all'icosaedro. Solo il primo però riempie completamente lo spazio, analogamente alle celle romboidali di un favo d'api. Secondo esempio, prendiamo in considerazione i chicchi di una melagrana, che forma la polpa su cui si aggrappano, diciamo, questi chicchi. Vedete un'immagine qui a destra? Vedete, sono proprio delle sferette impaccate, compresse una contro l'altra, tanto da modificare la forma stessa del chicco. Una melagrana presenta al proprio interno ancora, come i favi delle api, una struttura a celle romboidali. Ma qual è la causa di questa forma? Nella melagrana, dice Keplero, una causa deve risiedere nel principio vitale della pianta, quello che noi chiameremo la causa efficiente, ma questo non basta. deve essere affiancata, questa causa efficiente, da una causa materiale, cioè la necessità di occupare il maggior spazio possibile, espandersi, schiacciarsi l'uno contro l'altro per occupare all'interno di uno spazio dato più spazio possibile. È la stessa cosa, dice Keplero, che avviene per i piselli che si schiacciano all'interno di un baccello, l'uno contro l'altro, occupando il maggior spazio possibile tra quello a loro disposizione. Ecco, allora, prendiamo i chicchi compressi di una melagrana, compressi all'interno della scorza della melagrana, oppure i piselli schiacciati in un contenitore stretto da cerchi metallici. E qui arriviamo a una delle parti più interessanti dal punto di vista matematico dell'opera di Keplero. Consideriamo questa situazione, i piselli schiacciati oppure i chicchi compressi all'interno della scorza di una melagrana. Ma facciamo un discorso più ampio. Prendiamo dei piccoli globi di uguale dimensioni e compremiamoli. Questi tenderanno, se compressi, ad assumere due possibili disposizioni, a seconda delle due possibili modalità secondo cui si dispongono i piselli, o appunto delle piccole sfere, in un piano. Quadrangolare, quello che chiama con A, o triangolare B. Questa è proprio un'immagine tratta dal denive, una delle tre immagini, nessuna delle quali è un fiocco di neve, che troviamo nel denive. Quindi abbiamo due possibili forme di raggruppamento, di disposizione nel piano, quadrangolare o triangolare. Nel primo caso quadrangolare ogni globo è in contatto con altri quattro, nel secondo caso triangolare con altri sei. Procediamo, dice poi Keplero, a sovrapporre strati uguali e questa sovrapposizione può avvenire in due modi. Nel caso di disposizione quadrangolare ogni globo si collocherà o su un unico altro globo dell'ordine inferiore, oppure si collocherà nello spazio tra quattro altri globi dell'ordine, dello strato, diciamo, inferiore. In totale, nel caso indicato qui con A1, ogni globo sarà in contatto con altri sei globi, quattro dello stesso piano, uno sopra e uno sotto, e questi, se compressi, assumeranno una forma cubica. Nel caso A2, invece, ogni globo sarà in contatto con dodici globi, quattro del proprio strato, quattro sopra e quattro sotto. Se compressi, questi globi assumeranno una forma rombica, che è proprio quella che Keplero aveva osservato. In questo caso, osserva, osserva, cioè afferma Keplero, coaptatio fiet arctissima. La compressione, insomma, la densità sarà massima. È la formulazione di quella che poi è diventata nota come congettura di Keplero, sull'impaccamento, appunto, di sfere uguali dimensioni nello spazio, l'impaccamento più denso possibile, che è quello che poi vediamo nei banchi dei fruttivendoli, quando espongono le arance, per esempio, le dispongono impilate, proprio seguendo una struttura di questo genere. Oppure, quando visitiamo dei castelli, vediamo queste palle da cannone, disposte in queste pile, a base quadrata, e poi ogni palla è adagiata fra altre quattro palle dello strato inferiore. Ma questo è solo un caso, siamo ancora nel caso quadrangolare. Veniamo al caso, alla disposizione triangolare, che prima abbiamo chiamato B. Anche in questo caso, se procediamo ad aggiungere strati, ogni globo si appoggerà o su un unico globo dell'ordine inferiore, B1, oppure sarà collocato, in questo caso, fra tre globi dell'ordine inferiore. Facendo la somma dei globi con cui è contatto ogni singolo globo, in caso B1 sarà in contatto con otto globi, sei del proprio ordine, uno dell'ordine superiore e uno dell'ordine inferiore. E questi, se compressi, formeranno colonne con sei lati quadrangolari e due basi esagonali. Nel caso B2, invece, ogni globo sarà in contatto con dodici globi, sei del proprio piano, tre del piano superiore e tre del piano inferiore. Se compressi, assumeranno di nuovo una forma robica, esattamente come era il caso A2. Quindi, dice Cheplero, nel caso di coaptatio maxima, di massima densità, l'ordine triangolare non può sussistere senza l'ordine quadrangolare, né viceversa. Cioè, le due disposizioni che apparentemente sembravano così diversi, in realtà si può far vedere che sono, che coincidono perfettamente. Questo appunto, e questa è proprio la congettura di Cheplero che poi è stata dimostrata nel 1998 da un matematico che allora era a Pittsburgh, si chiama Thomas Hales, e che è una congettura che appunto adesso è diventata un problema, è stata dimostrata tra l'altro soltanto con l'ausilio del computer, dando luogo anche a varie discussioni circa il valore di una dimostrazione di questo genere, ma che ha dato, poi ha suscitato anche varie polemiche, ma comunque che ha una storia molto interessante, la dimostrazione appunto della congettura di Cheplero. Adesso non c'è tempo, io forse non ho neanche le capacità, anzi tolgo il forse, non ho neanche le capacità, specialmente parlando dei matematici, mai mi azzarderei a farlo, di entrare nei dettagli di questa dimostrazione, ma è appunto qualcosa di veramente interessante. In ogni caso, questo è uno dei punti importanti del Denive, a parte essere considerato il primo testo di cristallografia, cioè viene presentata questa che è diventata nota come congettura di Cheplero, che sarà poi il diciottesimo problema nella famosa lista presentata da Hilbert nel Novecento, come i problemi che avrebbero dovuto dare forma alla matematica nel corso del ventesimo secolo, e poi appunto è stata dimostrata nel 1998. Ma non sarà questo soltanto il punto importante del Denive. Procedo un po' velocemente perché come temevo mi sto dilungando, chiedo ad Alberto e Claudio di stopparmi in qualunque momento se dovesse andare troppo lungo. Quindi, scusate, ecco, quindi abbiamo detto questo discorso per i chicchi di una melagrana o per dei piselli. Nel caso delle celle di un favo di api, tuttavia, il principio è diverso. Le api infatti non si ammassano tra loro come chicchi in una melagrana, ma si dispongono volutamente a formare una schiera doppia e plasmano loro stesse le proprie celle. Quindi la sostanza dunque è fatta la cera, la causa materiale, non ha un ruolo in questo processo. Occorre prendere in considerazione dunque il fine perché le api fanno quello che fanno in quel modo. Un fine che ovviamente non è delle api stesse, ma è stato dato da loro, prescritto alle api, da Dio all'atto della creazione. Qual era dunque il fine, dice Cheplero, che Dio si era prefisso? Prendiamo allora in considerazione le api stesse, i corpi delle api e la materia che esse plasmano. Circa tale fine possiamo dire tre cose. L'esagono è la più spaziosa tra le figure regolari che coprono interamente il piano, il problema della, diremmo in termini moderni, della tassellazione del piano. L'esagono lo fa anche il triangolo, lo fa anche il quadrato, ma l'esagono è la più spaziosa, dice Cheplero, fra le figure regolari, fra i poligoni regolari che coprono il piano. E effettivamente le api hanno bisogno del maggiore spazio possibile per immagazzinare il medio. Si può estendere questa considerazione nel piano allo spazio e i romboidi hanno sempre una capienza maggiore rispetto ai cubi. Ecco allora potrebbe essere che le api costruiscono celle romboidali e non cubiche per questo motivo. Ma allora perché, dice Cheplero, non costruire delle celle sferiche, che sono sicuramente le più capienti? Che bisogno c'è di riempire poi ogni piccolo spazio, con tutto lo spazio che c'è a disposizione. Quindi questa strada non porta da alcuna parte. Secondo, i piccoli corpi delle api si trovano più a loro agio in una cella a più angoli ottusi, anziché in una cella squadrata simile a un cubo. Verissimo anche questo, però si troverebbero ancora meglio magari una cella sferica, decisamente più comoda, più adatta, dice Cheplero, ai loro teneri corpi. E infine, terza cosa che possiamo dire a questo proposito, è vero, il lavoro che le api devono sostenere per costruire le celle, siccome condividono delle pareti con altre celle, il lavoro è minore. Non solo, quindi nella costruzione la fatica è minore, ma poi le facce squadrate delle pareti offrono maggiore stabilità di quella che offrirebbe una sfera. È sufficiente fare questo tipo di considerazione, dice Cheplero, non ricorrere a fini di altro genere, quale perseguimento alla perfezione, bellezza, eccetera, eccetera. Analogo ragionamento, aggiunge, dobbiamo seguire per i chicchi di una melagrana. Anche in questo caso non è necessario fare considerazioni di altro genere circa l'essenza o l'anima o lo spirito che guida i chicchi o le api. Ma perché? Dice, le piante viceversa offrono quasi invariabilmente fiori di forma pentagonale, l'aveva già osservato Bruno, vi ricordate in quell'immagine che ho mostrato prima. Quindi in questo caso è necessario considerare, prendere in considerazione l'anima. Quindi, sempre in maniera more geometrico, come procede quasi invariabilmente Cheplero, cioè tra i poliedri regolari, soltanto due sono legati alla forma pentagonale. Il dodecaedro, che è fatto appunto, costituito da dodici facce pentagonali, e l'icosaedro, che è costituito da venti facce triangolari, ma le facce triangolari sono, attorno a ogni vertice, sono distribuiti in gruppi di cinque. E qui è la seconda scoperta presentata dopo la congettura di Cheplero, così come la chiamiamo noi, nel denive. Perché per la costruzione di entrambi questi poliedri, dodecaedro e icosaedro, e dello stesso pentagono, occorre fare ricorso a quella che appunto Cheplero chiama la divina proporzione, o sezione aurea. Il rapporto di due termini successivi della cosiddetta successione di Fibonacci, che vedete qui ma tutti conoscete, tende appunto a questo valore, tau. Così come tau deriva naturalmente da una successione che si sviluppa autonomamente, perché la serie Fibonacci, appunto ogni numero, si genera diciamo automaticamente dai numeri che lo precedono, tra nel primo chiaramente, tra i primi due chiaramente. Così dice che per i fiori riflettono la facoltà seminale tipica delle piante rappresentate dal pentagono. Ecco il secondo risultato diciamo matematico del denive, dopo la congettura di Cheplero, quella che noi chiamiamo congettura di Cheplero, Cheplero nel denive è il primo a sottolineare come dire il, chiaro che non fa considerazioni di limite o altro genere, però insomma effettivamente andando sempre più avanti nella successione di Fibonacci, il rapporto fra due numeri successivi si avvicina sempre più al valore appunto della sezione aurea. Tutto questo però è propedeutico, ovviamente abbiamo parlato di Piselli, di Melagrana, di Favidapi e così via. Tutto questo è propedeutico a farci affrontare in maniera più consapevole il problema dei cristalli di neve. La causa della forma esagonale dei cristalli di neve? Le cause possono essere esterne o interne. Tra quelle esterne ovviamente la prima che viene in mente, la più odia, è il freddo, che producendo la condensazione può sembrare essere la causa della forma stella. Però sembrerebbe plausibile che tale condensazione si produca al meglio in una forma atmosferica o, come nel caso di un vento freddo che colpisce i vetri di una finestra, lungo una superficie piana. In questo caso però, dice Cheplero, io stesso l'ho osservato nei bagni turchi, qualora le finestre abbiano dei vetri rotti, l'area ferredda e incontrando il vapore forma striature brinate, non stelle. Quindi, di nuovo, siamo appunto a capo. Non c'è d'aiuto questo genere di considerazione per risolvere il nostro problema. E di nuovo lo pone. Il problema è perché sei raggi? Qual è l'origine del numero sei? Chi ha scolpito il nucleo originale così che cadendo si sviluppi lungo sei direzioni, cadendo il fiocco dal cielo vuol dire, si sviluppi lungo sei direzioni. Il freddo, causa esterna, non può essere responsabile. Occorre indagare allora la causa interna. Ma se la causa è il calore interno, perché i raggi, perché si chiede Cheplero, i raggi non sono distribuiti perpendicolarmente sulla superficie di una sfera, detto un po' male così, immaginate una doppia croce all'interno di una sfera con gli estremi della croce che toccano la superficie interna della sfera. Perché il calore agisce solo su una superficie piana, come appaiono essere appunto i cristalli di neve? Normalmente ci vediamo, osserviamo che il calore si distribuisce invece uniformemente in tre direzioni. L'esperienza dice poi Cheplero, mi dice che a volte le stelle di neve non si stendono, non si appiattiscono fin dall'inizio della caduta, ma sembrano appiattirsi solo in un secondo momento. Quindi dice questo tipo di ragionamento come padre e l'esperienza come madre mi portano a generare una nili opinio, come lo chiama lui, una congettura da nulla. Quindi dice proviamo a pensare che all'inizio della loro caduta queste piccole stelle di neve siano costituiti da tre diametri vellosi perpendicolari fra loro in un punto, quindi una doppia croce. Toccando quindi terra lo fanno soltanto con l'estremo di uno dei tre diametri, mentre gli altri due rimangono sospesi e si piegano poi a poco, poi a poco a poco schiacciandosi su un piano. Cheplero lo dice subito, è un'ipotesi inconsistente, ma prima è appunto un'ipotesi da nulla per riprendere il gioco dell'inizio, ma prima di rivelare perché o che è una ipotesi da nulla, proviamo a seguirla fino in fondo e vediamo quali sono le conseguenze. Di nuovo, qual è la causa dunque di questi sei raggi? Se è il freddo, causa esterna, esso avvolge uniformemente ogni particella di vapore. Se è il caldo interno, anch'esso agisce da un medesimo centro in ogni direzione. Quindi qualunque sia la causa esterna o interna è ovunque ugualmente diffusa, perché allora abbiamo a che fare con sei raggi, comunque essi siano disposti e non con altro tipo di forma. Dice cheplero questo questo fatto può avvenire per necessità materiali in un unico modo, ma e adesso lui lo esporrà, ma dice la mia soluzione a proporre questo modo causerà molte più domande di quelle che invece questa proposta è chiamata a rispondere. Ma lo dirò comunque nel caso, dice, in cui il confronto di molti errori possa magari condurre la verità. E questo è proprio l'intento del deniglio. Perché cheplero espone tutte queste congetture che lui fa e poi le confuta una dopo l'altra e nonostante, pur non essendo arrivata a una soluzione positiva, decide di pubblicare l'opera. Proprio per dialogare, porsi in dialogo con gli scienziati come lui, suoi contemporanei, e indicare che vie lui aveva già battuto. Scrive anche, tra l'altro, mi sono segnato questo passo dell'Astronomia Nova, quindi che è contemporanea al deniglio. L'Astronomia Nova è appunto un'opera astronomica, l'opera maggiore di Keplero, quella delle prime due leggi. Dice che scopo di questo lavoro non è principalmente quello di spiegare i moti celesti. L'Astronomia Nova dice che scopo di questo lavoro non è principalmente quello di spiegare i moti celesti, né di condurre il lettore da premesse evidenti a conclusioni stringenti, come ha fatto Tolomeo. Cioè non ha un processo more geometrico, come dire, come erano gli elementi di Euclide, per esempio. Io intendo piuttosto comportarmi come un oratore e dare una presentazione storica delle mie scoperte. Non intendo omettere i miei errori, cosa che peraltro priverebbe il lettore di un grande divertimento, ma presentarli come guida per gli stessi lettori e indicazioni per le future ricerche. In questo passo dell'Astronomia Nova, che ritroviamo qui condensato nella frase, nel caso in cui il confronto di molti errori possa magari condurre alla verità, troviamo appunto la ragione della pubblicazione di questo, una ragione molto interessante. Continuiamo però nel ragionamento abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi finito. Supponiamo che il vapore ha salito dal freddo, si coagule in piccole sfere in una data dimensione e supponiamo, quindi lui adesso sta portando avanti, dicendo come la causa esterna, il freddo, possa che normalmente agisce in maniera uniforme, potrebbe effettivamente agire soltanto secondo quella doppia croce all'interno di una sfera, lungo cui si potrebbero disporre i tre diametri che poi appiattendo si formano il cristallo di neve. Quindi supponiamo che il vapore si coaguli in piccole sfere di una data dimensione, supponiamo che queste piccole sfere si dispongono secondo un determinato schema, già queste sono ipotesi importanti, come quelle visti sopra, per esempio secondo una disposizione cubica. Ogni sfera è in contatto con altre sei, quattro nello stesso piano, una sopra e una sotto. Questa è un'altra figura del denive. Ecco, allora all'irrompere del freddo negli interstizi lasciati vuoti, le piccole sfere saranno protette contro il freddo proprio lungo quelle linee, quei sei raggi, diciamo, tridimensionalmente, quei tre diametri perpendicolari l'uno all'altro e passanti per il centro, soltanto da un punto di contatto all'opposto. Dunque la condensazione avverrà proprio lungo quei diametri delle sfere dove queste sono protette dal freddo e questo potrebbe spiegare appunto l'esagonalità. Ma perché le piccole sferette dovrebbero disporsi secondo quella disposizione cubica? Se la materia non permettesse altre possibilità, la questione sarebbe chiusa. La materia permette soltanto questa e dunque le sfere si dispongono così e quindi la condensazione avviene lungo quelle direzioni. Tuttavia sono possibili, come ho già detto prima, altre distribuzioni e non solo. Le tre disposizioni regolari, ricordate A1, A2, B1 e B2, ma A2 e B2 di fatto sono la stessa cosa, quindi abbiamo A1, A2 uguale B2 e B1. Sono le tre disposizioni regolari possibili. Non solo possono darsi tutte e tre, ma possono anche presentarsi in una distribuzione mista, quindi anche questa possibilità non ci porta da nessuna parte. Rimane la possibilità che il caldo, la causa interna, finora abbiamo indagato la causa esterna, produca la disposizione cubica delle gocce. Ma di nuovo non riusciamo a capire perché. Quindi di nuovo arriviamo perché dovrebbe proprio il caldo produrre questo tipo di disposizione. Di nuovo non facciamo alcun progresso e non lo faremo se non mostriamo che il calore fissa interno, fissa la goccia di vapore lungo tre diametri a forma appunto di ottaedro, almeno di esagono, così che la materia si accumuli via via su di essa per condensazione. E poi vabbè, tralascio altre difficoltà. Altre ipotesi di Keplero. Forse la causa dei tre diametri è che tre sono le dimensioni per gli esseri animati? In questo caso però le dimensioni servono a un fine specifico. Keplero discute. Quale sarebbe il fine nel caso dei cristalli di neve? Quindi avanza tutta una serie di considerazioni, le confuta uno a uno e arriva alla conclusione. La causa della forma esagonale nei cristalli di neve non è altro che quella delle forme regolari e delle costanti numeriche che si ritrovano nelle piante. Esiste cioè nel corpo della terra una facultas formatrix, una facoltà formatrice o vis formatrix, una forza formatrice che viene veicolata dal vapore verso la superficie, così come il respiro nell'uomo è portatore appunto dello spirito della vita. A questa tesi, che è un po' la conclusione del testo, Keplero stesso avanza due obiezioni. Uno, nei corpi delle animati e nelle piante c'è un fine da raggiungere, ma nessun fine sembra individuabile nel caso dei cristalli di neve. Risposta, a volte il principio formatore, questa facultas formatrix, non agisce soltanto in vista di un fine, ma anche in vista della semplice bellezza. Anche questa è una, come dire, un'affermazione un po' inconsistente che Keplero se ne rende conto. Seconda obiezione, ogni singola pianta ha un proprio principio animatore individuale, mentre sarebbe ridicolo immaginare che ogni singolo cristallo di neve abbia un principio animatore individuale, particolare. Risposta, la somiglianza tra piante e cristalli è maggiore di quello che potrebbe sembrare. Se anche ogni singola pianta ha una propria facoltà animatrice, ognuna di queste facoltà, discende da una sola e medesima facoltà universale che è nella Terra. Però Keplero lascia lì il discorso perché si rende conto che sì, possiamo avanzare obiezioni e risposte in questo modo, ma non facciamo grandi progressi. Per concludere, dice, finora abbiamo parlato della causa della forma. Soffermiamoci un secondo sulla forma stessa. Se risulti dall'incrocio di tre diametri, come sosteneva nella Nile e Opinio questa congettura da nulla che aveva discusso prima e portata alle estreme conseguenze, o se sia esagonale fin dall'inizio. Nel primo caso la forma tridimensionale segue la struttura di un ottaedro. Ma di nuovo la domanda, perché proprio un ottaedro dunque a sei punte e non un cubo a otto? Quanto al secondo caso, i gemmolici dicono che gli ottaedri naturali della forma più perfetta e levigata si trovano nei diamanti che vengono prodotti all'interno della Terra, nel cuore della Terra, dice Keplero. Questo rafforzerebbe la nostra posizione. La medesima facultas formatrix, che nel profondo della Terra ha assegnato ai diamanti la forma ottaedrica, quando emerge attraverso i vapore sulla superficie, assegna la medesima forma alla neve, che appunto consiste di vapore condensato. Ma poi la conclusione, nell'ultima pagina. Fino a che punto, insomma, mi sono lasciato trascinare dai miei ragionamenti? All'inizio rifugivo, questo è un dono sempre a Wacker, quindi l'interlocutore è sempre Wacker von Wacker. Rifugivo dal donarti la più piccola cosa, non ti donavo neanche un granello di polvere o una scintilla di fuoco o una goccia d'acqua e poi addirittura sono arrivato a parlare, parlando del piccolo cristallo di neve, niente meno che dell'anima vivificatrice, scusate, di un corpo molto più grande, quale appunto la Terra. Quindi parlando, rifugiendo delle cose più piccole, sono arrivato a parlare di cose molto più grandi. Nello spazio che mi resta, ed è proprio l'ultima pagina, mi darò da fare perché ciò che ti offro e ciò che ho detto siano davvero nulla. E lo sarà davvero nulla, dice. In un tempo pare a quello che il mio piccolo cristallo di neve impiega a liquefarsi. Controbatterò le debole argomentazioni portate finora con debole argomentazioni contrarie, riducendole così di nuovo al nulla. Quindi è pienamente consapevole della debolezza delle affermazioni fatte finora, ma le controbatte in ogni caso con delle ultime deboli affermazioni. Nel frattempo comunque ha ripreso a nevicare e i fiocchi che cadono sul mio mantello sono di due tipi. Alcuni piccoli, la maggior parte, senza vigliostriature, estremamente sottili ma raccolti al centro così da formare piccoli ammassi globulari un po' più consistenti. Altri, sempre piatti, presentano quasi un settimo raggio. Ecco, ricordate quell'immagine che vi ho fatto vedere prima di Cassini? Quasi una radice, quasi radix, dice Kepler, una radice rivolta verso il basso, sulla quale le stellette si posano una volta arrivate a terra. Ecco dunque quello che avevo pensato prima, quella nilio-pigno, quei tre diametri all'interno di una sfera posti a doppia croce, in realtà era stato tratto un inganno. Non avevo osservato sin dall'inizio questa sorte di radice e quindi la mia ipotesi su cui ho costruito un terzo del mio discorso si viene confutata. Ciò che ho detto finora è tanto vicino al nulla quanto ciò a proposito del quale appunto l'ho detto. E quindi siamo di nuovo da capo. Perché sei? Ultime righe. Forse perché l'esagono è la prima tra le figure piane regolari che non può formare un solido, forse perché l'esagono ricopre completamente il piano, forse perché l'esagono è la più vicina al cerchio tra le figure che ricoprono completamente il piano, forse perché l'esagono produce insieme al triangolo forme sterili a differenza del pentagono che si ritrova nelle piante, oppure è la stessa facoltà formatrice a partecipare intrinsecamente della forma esagonale. Ecco tutte queste ipotesi, lo dice che blero brevemente proprio nelle ultime righe dell'opera, presentano fortissime difficoltà, in particolare l'ultima perché l'esperienza ci mostra che la facoltà formatrice della terra dà luogo a forme di ogni genere, non soltanto esagonale. Rimane dunque ancora molto da sapere prima di arrivare a capire effettivamente le cause del fenomeno, quindi sapere perché le piccole stelle di neve, i cristalli di neve, hanno questa forma a sei punti. Non resta, dice allora Keplero, che bussare alla porta dei chimici e degli alchimisti tocca a loro dirci qualcosa di più sulla natura della materia. Keplero quindi espone le strade del lui percorso, le congetture che lui ha cercato di seguire e sviluppare, che una a una ha confutato e si rende conto che dobbiamo sapere qualcosa di più sulla natura della materia, sulla costituzione da cosa è fatta la materia, quindi saranno i chimici o gli alchimisti a dirci qualcosa di più, a doverci dire qualcosa di più sulla struttura della materia prima che possiamo rispondere alla domanda, che poi effettivamente è quello che è successo. Oggi sappiamo che i cristalli di neve hanno questa simmetria esagonale proprio perché la molecola dell'acqua ha determinate caratteristiche. si ferma allora qui, arriva alla fine della sua lettera, della sua strena, il suo dono per Wacker e dice anziché dilungarmi in ulteriori ragionamenti, preferisco adesso aspettare da te, che sei persona estremamente acuta e ingegnosa, aspettare da te qualche pensiero al riguardo per sapere che cosa ne pensi. E con questo mi fermo anch'io, chiedendo scusa se sono andato più lungo, ma insomma ho voluto farvi fare questo breve viaggio nella mente di Keplero per farvi vedere appunto come ragiona, ed è Keplero stesso che ce lo racconta, come ragiona uno scienziato che per tanti versi è considerato a mio parere, sbagliando completamente, un esponente della vecchia mentalità tardo-medevale, a differenza per esempio del suo contemporaneo Galileo, presentato come il padre della scienza moderna perché ha un approccio e lo leggiamo nei suoi opere completamente diverso, mentre Keplero addirittura ci va a raccontare cosa ha pensato, dove si trovava, con chi ha parlato nelle sue opere, la sua, la suo stile espositivo è stata paragonata a una sorta di stream of consciousness, un po' quello che gli viene e lui racconta. In realtà non è così, nell'Astronomia Nova, in quest'opera, nel Denive, ma nell'Astronomia Nova, nel Mysterium Cosmographicum, in altre opere importanti, Keplero inserisce anche brani della propria corrispondenza, perché per lui è un modo per entrare, come ho detto anche prima, in dialogo con i propri interlocutori, non dire semplicemente quando ha un risultato, altrimenti il Denive non sarebbe mai stato pubblicato, ma dire anche ho un problema, non sono stato in grado di risolvere, ho battuto queste strade, non mi hanno portato da nessuna parte, credo che la strada da percorrere sia conoscere qualcosa di più sulla struttura della materia, ma ditemi voi che cosa ne pensate. E io trovo che questa maniera di dialogare con i propri contemporanei sia, alla faccia di tutti coloro che ritengono, Keplero, un scienziato tardo-medievale, invece, estremamente moderna. Mi fermo qui. Spero, insomma, che vi sia interessato in qualche modo. Grazie. Grazie mille, grazie tanto. Penso che applaudiamo ognuno dalla propria stanza per questo bellissimo viaggio. Un tour de force, insomma, è interessante. È stato veramente molto interessante. E come dicevo all'inizio, tra poco ci sarà una falla in cui stopperemo la registrazione in modo tale che tutti possano, anche quelli che non volevano farsi registrare, fare domande. Prima di farlo vorrei chiedere se qualcuno ha già una domanda per Stefano. Sì, Federico, prego. Sì, allora, intanto grazie per il seminario veramente appassionante, veramente. Senti, avevo diciamo due domande così nate da curiosità che formulerò, insomma, in modo abbastanza vago, abbi pazienza, ma il materiale è talmente tanto, insomma, anche così sofisticato che non è facile da non specialisti andare più nel dettaglio. Allora, la prima era questa. Mi domandavo se quello che tu hai detto a proposito, diciamo, della priorità della forma esagonale rispetto al problema che oggi chiamiamo d'assellazione, ha qualcosa a che fare con la prospettiva anti-atomistica di Keplero. Cioè, se l'interesse verso la forma esagonale è anche in qualche misura dettato da una teoria della materia di Keplero, insomma. No, per quello che ne so io, parlo sempre, diciamo, limitatamente alle mie conoscenze, no, Keplero non ha una teoria della materia. Quindi il suo approccio in questo caso al problema che noi chiameremo della tassellazione è puramente geometrico. Nell'Armonice Mundi, come dire, dedica varie pagine del primo libro e anche in parte del secondo libro al problema della tassellazione, ma appunto non riguarda, lui lo affronta non dal punto di vista della teoria della materia, ma semplicemente dell'Armonia, appunto, nell'Armonice Mundi, dell'Armonia della congruenza delle parti, della corrispondenza delle parti. Cioè, dal punto di vista puramente geometrico, diciamo, e non fisico, se posso usare questi termini. Per quello che so io. Senti, la seconda domanda. Quando tu hai parlato, hai fatto, insomma, accenno al ricorso di Keplero all'insieme dei poliedri regolari, no? In relazione alla spiegazione del perché siano sei... Sì. Tu hai usato il termine sfere in relazione a questi poliedri, cioè quelli entro cui sarebbero iscritti, no? Iscritti c'è questo. Allora, magari sto confondendo... Allora, spero se poi alla fine le orbite sono ellittiche, questa è la domanda. No, no, cioè, nel senso, a parte, vabbè, prima cosa ovviamente è questa. Ma la seconda è, se ricordo bene ho imparato che Keplero è il primo astronomo moderno che, diciamo, assesta un colpo veramente mortale all'idea che ci siano delle sfere fisiche su cui i pianeti sono in qualche modo incastonati, no? Questo è corretto, cioè è ragionevole o è una cosa di cui invece esiste una versione più sofisticata, più ambivalente? Dunque, innanzitutto, già Copernico probabilmente non credeva più nelle sfere solide. Questo è una questione un po' dibattuta, ma mi sembra di poter dire che il consenso più generale, insomma, va in questa direzione. Gli ultimi studi recenti su Copernico vanno in questa direzione. Quindi Keplero non è, diciamo, il primo in questo senso. Ma sicuramente, lasciando perdere Copernico, già non parla più di sfere solide Tico Brahe. Nel sistema Ticonico noi abbiamo la Terra al centro, attorno alla Terra ruotano la Luna e il Sole e poi attorno al Sole tutti gli altri pianeti. Se noi andiamo a vedere anche lo schema di questo sistema Ticonico nelle opere di Tico Brahe, vediamo che le orbite si intersecano. Quindi, già Tico Brahe non poteva parlare di intersezioni tra orbite se considerava delle sfere solide. Quindi Keplero non è senz'altro il primo. Ma è il primo a non parlare più di sfere solide. Ma Keplero non fa... Quando parlo di sfere, sono enti puramente geometrici. Sì, d'accordo. Puramente geometrici. Quest'ipotesi dei pianeti annidati, come si dice, o meglio, dei poliedri platonici annidati uno dentro l'altro, al più esterno il cubo, poi sempre in un ordine particolare che rispecchia la distanza che Keplero aveva calcolata fra le orbite dei pianeti. Ecco, questa è un'ipotesi che viene pubblicata da Keplero nel 1596, nella prima edizione del Misterium Cosmographicum, segreto dell'universo appunto, lui che riesce veramente a leggere nella mente di Dio, come ritiene, quindi aver colto il segreto del perché ci sono sei, soltanto sei pianeti. Ma poi è l'unica opera di Keplero che ha una seconda edizione nel 1621, dopo la pubblicazione dell'Astronomia Nova e dopo la pubblicazione dell'Armonice Mundi, quindi la pubblicazione delle tre leggi di Keplero, quelle che noi chiamiamo le tre leggi di Keplero. E in particolare della prima che dice che le orbite sono ellittiche, quindi come fanno le orbite appoggiare su sfere iscritte e circonscritte ai cinque poliedri. Lui mantiene questa struttura del cosmo nella seconda edizione nel 1621. E come fa a mantenerla? La mantiene aggiungendo, aggiunge rispetto alla prevenzione, tutta una serie di note e parla di spessore di queste sfere. Questo spessore sarebbe tale da consentire, siccome l'eccentricità, quindi la differenza fra una sfera, una diciamo un cerchio e un ellisse è minima nel caso dei pianeti, questa eccentricità sarebbe contenuta nello spessore delle sfere. Quindi lui riesce a far tornare questa cosa qui. Ecco. A dopo. Così. Questo è il... Grazie. Prego. Grazie. Vorrei leggere un commento fatto da Silvio De Toffoli, poco prima di salutarci che ho dovuto andare a insegnare, che ci ha detto che voleva dire riguardo alla prova della congettura di Geplero, che Tom Hales è ancora a Pittsburgh, era essenzialmente nel 2017, con un gruppo di collaboratori ha creato una prova formale con una computation of truth assistance della congettura che è stata verificata formalmente. Esatto, ho detto un'inesatezza, effettivamente. Prima si ritrova... Esatto. Da un'altra parte, poi si è trasferita a Pittsburgh. Ho detto una stupidaggine, è vero. Silvia giustamente mi ha colto su questa cosa, ha perfettamente ragionato. Sì, è poi uscito, tra l'altro è uscito qualche anno fa, appunto, credo appunto nel 2017, come lei scrive, un testo in cui viene dettagliata la prova, la dimostrazione, è un testo che purtroppo presenta anche, non a opera di Hales, ma ad opera di un altro matematico, un'introduzione storica sul problema, appunto che dovrebbe nascere con Geplero e che poi viene sviluppato da altri autori, che però è storicamente molto, devo dire, molto debole, ha degli errori veramente storici, eclatanti, cioè vengono citate delle lettere, lo scambio di lettere fra Newton e Gregory, per esempio, e se uno va a prendere il passo indicato dall'autore, citato dall'autore, non dice quello che quell'autore dice, che quel passo invece sta dicendo. Quindi dal punto di vista storico non è molto accurato, ma ecco è la dimostrazione formale appunto del fatto che Geplero avesse ragione nella propria congettura. Ok, grazie mille. Allora, direi che potrebbe essere il momento magari di interrompere la registrazione, in modo tale che possiamo continuare una chiacchierata più informale, quindi concludo ringraziando Stefano e tutti i partecipanti e un appuntamento alla prossima volta.